Ai 60 milioni di euro del patto per lo sviluppo della Toscana, sottoscritto lo scorso luglio in regione, si aggiungono altri 50 milioni stanziati da Italia con Fidi e Confesercenti Toscana. La misura, illustrata a Firenze nella sede della Presidenza regionale, serve a facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese toscane con una copertura del finanziamento fino all'80% e con costi di garanzia molto bassi. C'è stato un brusco calo proprio con l'inizio del 2019 nell'accesso al credito della nostra regione, delle imprese, in particolar modo quelle sotto 20 dipendenti, segnali che ci hanno spinto insieme alla regione toscana a costruire gli strumenti di intervento molto forti che ci permettano un pezzo per volta di intervenire su venti di crisi che ormai stanno ospirando abbastanza forti sull'Europa e che ci preoccupano abbastanza. Obiettivo della nuova misura in linea con il patto per lo sviluppo che attraverso Garanzia Toscana coinvolge 15 realtà del mondo sociale ed economico e rilanciare gli investimenti pubblici e privati per garantire crescita, occupazione, ecocompatibilità e mettere al sicuro le PMI da eventi di crisi che alleggiano sui mercati. Si mette a disposizione di tutte le imprese della Toscana non solo per investimenti ma anche per la liquidità, i prestiti che servono per il magazzino, per pagare, per un quantitativo di risorse che avrà un moltiplicatore io credo sicuramente intorno a 10 quindi si potrà andare oltre il miliardo di liquidità che entra nell'economia della Toscana attraverso le imprese. Da luglio la regione ha già stanziato 40 milioni di quelli previsti dalle tre linee di intervento di Garanzia Toscana.